Buccavano le gomme e rubavano i borselli all'interno delle auto sulla rotta Salerno-Napoli. I tre pregiudicati napoletani arrestati nel pomeriggio di ieri dai poliziotti della squadra mobile di Napoli insieme ai falchi di Salerno, che hanno intercettato un'autovettura con una bordola gang e l'hanno seguita fino a un centro commerciale nei pressi di Ponte Cagnano. Ieri i tre hanno parcheggiato in una strada accanto a un ufficio postale e mentre due di loro sono rimasti a bordo dell'auto, il terzo si è allontanato per poi tornare di corsa a sedersi in auto. Gli agenti hanno notato che alle spalle dei ladri un automobilista era intento a sostituire uno pneumatico della sua autovettura, ignaro del furto del proprio borsello. I tre sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Salerno-Forni e ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie. 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 Grazie.